Ti guarda mentre dormi, sa quando sei sveglio, sa se sei stato buono o cattivo. Fermi, i bambini non sono stupidi, sanno come funziona. Scusa, Babbo Natale. Su, Cupido! Su, cometa! Eddie, guarda qua! Dammi la telecamera! È Babbo Natale! In carne ed ossa, per una sola notte. Non somiglia a Babbo Natale. I manifesti ingrassano di 40 kg. Il Natale è in pericolo. E se lavorassimo tutti insieme? Ne ho viste di cose strane. Ma questo... Aspetta di sapere che succede dopo. Se doveste incontrare la moglie di Babbo Natale, magari tralasciate questa parte. Vi metto nella lista dei cattivi? Va bene. Torniamo a lavorare. Questa è la sua parte a parte. Grazie a tutti